Presidente Chiodi, il giorno dopo le richieste da parte della Procura, qual è il suo stato d'animo? Sicuramente deluso, amareggiato e indispettito da questa espressione così forte da parte della Procura federale. Non mi sarei mai aspettato una partenza del genere. È chiaro che probabilmente loro si buttano molto avanti per poter poi avere magari un margine più alto, però non è giusto che questo accada. Io penso proprio che sia un'offesa all'Aquila Calcio. I nostri avvocati già sono pronti, già con un grosso progetto difensivo dove dovremo sicuramente dimostrare che noi siamo totalmente estranei a tutto questo che sta accadendo. Poi è chiaro che loro faranno le loro considerazioni, mi auguro magari un po' più ponderate. Cosa si sente di dire ai tifosi aquilani che hanno chiesto alcuni anche ieri sul web di ritirare la squadra come gesto forte nei confronti anche del sistema calcio? Io non mi sono fermato qua, ho chiamato i vertici della Lega e anche su questo abbiamo discusso perché non è giusto che se queste erano le ipotesi e questi erano gli obiettivi da parte della Procura federale forse era giusto che ci si dicesse prima una cosa del genere perché a questo punto non iscrivavamo la squadra.